Musica Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima Tg delle ore 13 e 30, andiamo con le ultime notizie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione del sessantesimo anniversario dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico come 60 anni fa l'organizzazione deve individuare delle scelte importanti per la nostra società, solo con uno sforzo collettivo si consentirà alla comunità internazionale di superare questa emergenza ed affrontare sfide globali come i cambiamenti climatici, i flussi migratori, la digitalizzazione e la costruzione di società resilienti. Il Premier Conte ha parlato in diretta Facebook alla conferenza col diretti per manifestare il sossegno del governo alle aziende e alla causa, andiamo ad ascoltare le sue parole. Si stanno seguendo in questo momento, tra l'altro sono deliziato da quel cesto con tante bontà che sono tipiche immagini della produzione agricola italiana, è un cesto che riscalda il cuore, che è collocato tra il Presidente Prandini e il Segretario Gesmondo, quindi mi dispiace oggi in particolare non essere con voi perché immagino che avremmo potuto aprire insieme questo cesto, ma ci rifaremo. Rivolgo anche un caro saluto a tutti i partecipanti a questa assemblea e ovviamente sono onorato di questo invito perché siamo giunti al termine di quest'anno, il 2020 attraversato da una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e la nostra società, ci sta mettendo ancora a dura prova e ancora dovremo continuare a vigilare, a non abbassare la soglia di attenzione. Però direi che proprio quest'anno più che mai si è mostrato con estrema chiarezza il ruolo decisivo che la filiera agricola, quella agroalimentare svolgono in Italia. E voi siete un'asse assolutamente portante di questo comparto, di questa filiera, quindi io vi ringrazio particolarmente per tutto il lavoro che fate, che state svolgendo e ringrazio in particolare tutti gli attori di questa filiera che come ci invita oggi a riflettere il titolo che avete scelto, quanto mai puntuale, sono gli autentici eroi del cibo su cui il Paese ha potuto contare, ha potuto fare affidamento per attraversare i mesi che sono alle spalle e potrà contare per affrontare i mesi che ci aspettano avanti ancora. Grazie al vostro lavoro svolto con grande dedizione professionale, con vero amore e con grande senso di responsabilità, i generi alimentari non sono mai mancati, anche nei momenti più difficili, quando il Paese si è fermato in un lockdown generalizzato, ricordiamo tutti la scorsa primavera, non sono mai mancati negli scaffali dei negozi, dei supermercati, i generi alimentari, né sulle tavole di tutti i cittadini italiani. Il settore ha dimostrato tutta la sua strategicità per la sicurezza e per tutelare quella che chiamerei la sovranità alimentare del nostro Paese, soprattutto nel periodo più complesso, caratterizzato da corsi agli accaparramenti, da una concentrazione anche improvvisa, ricordiamo bene, della domanda alimentare. Il governo, e voi lo avete sottolineato nel corso del 2020, ha fatto la sua parte con numerosi provvedimenti di sostegno al settore agricolo e agroalimentare, ben consapevole delle forti ripercussioni negative che sarebbero derivate dalle necessarie misure di contenimento del contagio. Queste misure hanno interessato anche, purtroppo, il canale della ristorazione e dell'ospitalità e hanno determinato effetti negativi in molti settori specifici del più ampio comparto agricolo. Adesso non sto qui a ricordare tutti gli interventi che abbiamo fatto, però mi piace sottolinearne qualcuno. Il fondo ristorazione. Abbiamo stanziato 600 milioni di euro finalizzati all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto di quest'anno, di prodotti filiere agricole e alimentari. Tra questi i prodotti viti vinicoli, anche dopo IGP, valorizzando la materia prima del territorio anche attraverso l'acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Sono 1.088 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, secondo il bollettino dell'Unità di Crisi Regionale, su 15.472 test effettuati per una percentuale di positività ai tamponi del 7% in linea con gli ultimi giorni. Nel bollettino si segnalano 1.648 guariti dal coronavirus e 30 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti. I posti in terapia intensiva occupati sono 130 su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid si scende sotto quota 1.800, infatti sono 1.796 i posti occupati su 3.160. Sono invece 12.030 i nuovi casi di coronavirus in tutto il nostro Paese, su più di 130.000 tamponi processati per una percentuale di positività che si attesta all'11,7% in linea con la giornata di domenica, ma in rialzo rispetto ai giorni precedenti. Si segnalano nell'ultimo bollettino della protezione civile anche 22.456 guariti e 491 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 65.011 unità. Ascolteremo tutti i partiti per fare in modo che l'azione di governo riparta in modo coeso e condiviso. Lo dice il Premier Giuseppe Conte alla stampa, parlando della verifica del governo e sottolineando che l'esecutivo deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo se c'è fiducia reciproca. Conte inoltre preannuncia nuove restrizioni. Abbiamo già predisposto un piano delicato, specificatamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo, dobbiamo scongiurare ad ogni costo una nuova ondata a gennaio. In Italia si continuano a sfiorare 500 morti al giorno per Covid-19. Il governo deve decidere se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della terza ondata. Una decisione arriverà entro 48 ore, questa sera o mercoledì, con un'interlocuzione in corso con il Comitato Tecnico Scientifico che ha fatto traperare la necessità di misure più rigorose. L'ipotesi è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi. Un lockdown di fatto dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali aperti al pubblico. Oppure quella più probabile di una sorta di grande zona arancione, con i negozi aperti, i ristoranti chiusi e con il coprifuoco anticipato alle 18 o alle ore 20. Stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza. Spero che in tempi brevi si possano prendere ulteriori misure per scongiurare un'ipotetica terza ondata. Dobbiamo essere più rigorosi durante le festività. Gli fa eco il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. In Italia la curva dei contagi è in fase calante, mentre in Germania sta salendo, osserva il che porta a escludere un lockdown nazionale di settimane sull'esempio tedesco. Ma la stretta ci sarà, con l'unica deroga forse, gli spostamenti tra piccoli comuni entro un certo numero di chilometri. Misure da consolidare ed eventualmente estendere e rafforzare con una sorta di lockdown per tutto il periodo natalizio. In quanto avrebbero detto, secondo quanto si apprende, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nella riunione con il Premier Conte e i capi delegazione. La necessità di una nuova stretta è stata spiegata dai tecnici e legata all'impossibilità, da un lato, di un controllo capillare del territorio e dall'altro a dati ancora preoccupanti, con un'incidenza di nuovi casi ancora troppo alta. L'Italia, fanno sapere gli esperti, ha anche un numero di morti giornaliero che supera quello della Germania, che ha però 20 milioni di abitanti in più e oltre metà del paese con le strutture sanitarie ancora sotto stress. Dunque, è la conclusione, bisogna estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai. Un operaio di 47 anni è deceduto a Salerno a seguito di un incidente sul lavoro presso uno stabilimento sulla zona industriale. L'uomo, scrive l'agenzia ANSA, è caduto da un'altezza di 6 metri mentre si trovava a svolgere lavori di manutenzione sul tetto. L'impatto è stato particolarmente violento e le lesioni riportate dall'uomo sono state fatali. Una volta arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso, mentre i carabinieri locali hanno avviato le indagini. In piena emergenza a Covid-19 prosegue il lavoro a Scampia per la nascita del polo di scienze infermieristiche dell'Università Federico II di Napoli. Si tratta di un plesso di 10.000 metri quadrati firmato dall'architetto Vittorio Gregotti. L'edificio sta sorgendo a pochi metri dalle vele ed accoglierà oltre 4.000 studenti. Soddisfatto il rettore Matteo Lorito come riportato dai colleghi della Repubblica di Napoli. L'obiettivo è di inaugurarla per il 2021-22. Sarà un segnale del nostro paese che cerca di resistere al virus. Rapine e spari per fortuna senza feriti a Villaricca, Napoli. Due banditi sono giunti a bordo di uno scooter in corso Vittorio Emanuele. Nel mirino una farmacia. Uno dei due rapinatori ha armato e rimasto fuori a fare da palo. L'altro è entrato ed ha cercato di svuotare le casse della farmacia. Un vigile urbano è stato allertato da alcuni passanti e si è avvicinato. Il palo lo ha visto e ha sparato. Un colpo in aria per intimidirlo. Lo stesso ha fatto il vigile. Arraffati circa 1.000 euro, i due rapinatori sono fuggiti. Le indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Villaricca. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al baglio degli investigatori. Sono appena 125 i nuovi casi di positività ufficializzati dall'asla di Caserta a fronte di 1.680 tamponi processati nelle ultime 24 ore. È risultato quindi positivo al Covid. Circa il 7,4%. Si tratta del dato più basso degli ultimi due mesi. Numeri che confermano il trend in discesa. In provincia di Caserta si aggiorna purtroppo la tabella dei decessi che giungono a quota 332 da inizio pandemia. Sono due le nuove vittime residenti a Bellona e Francolise. Gli attualmente positivi sono circa 8.000 e la città con un numero maggiore è aversa. L'urna di Dion decreta per il Napoli la sfida contro gli spagnoli del Granada. La partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno. Giovedì 18 febbraio 2021 mentre il 25 ci sarà quella di ritorno. Così come nella fase a Gironi le sfide si discuteranno in due fasce orarie cioè alle 18.55 e alle 21. Intanto ritorna il campionato con Udinese, Crotone e Benevento Lazio ma sarà Inter-Napoli il big match della dodicesima giornata di Serie A. A San Siro si accendono le luci in campo. Seconda e terza forza del campionato alle spalle del Milan capolista. Entrambe reduci da due successi contro Cagliari e Sampdoria. Nerazzurri e Partenopei si giocheranno molto in un match delicato e mai scontato. Conte ritrova dal primo sia Gagliardini che Lautaro che farà coppia con Lukaku in attacco. Negli azzurri invece spazio Mario Rui a sinistra e Lozzano come esterno destro d'attacco. Confermato Mertens punta Petagna partirà dalla panchina. Le probabili formazioni recitano l'Inter con il solito 3-5-2 Andanovic Scrinier De Frey Bastoni a formare la linea 3 Darmian Gagliardini Brozovic Barella e Young anche se Darmian è in ballottaggio con Achimi davanti Lukaku Lautaro mentre Napoli 4-2-3-1 con Ospina Di Lorenzo Manolas Coulibari e Mario Rui Fabian Ruiz Bacaglio Co a formare la Diga Zelitsky a fare da perno a centrocampo con Lozzano Insigni esterni e Mertens prima punta. Per questa edizione di PrimaTG è tutto appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali Grazie a tutti